Ferdinand Ferdinand Grazie a tutti. Sì, c'è stato scritto. per la sua proglie di risultato nella scuola per la nostra tutta la quinta e la sua alla sua attesa per la sua Il nostro corso di Stato di Stato di Stato, Grazie a tutti. Ciao, Michel. Servu, serinco, cosa tu hai? Cosa ti ho donato, signor. Aggiungi a tutti ci vedrai, ci vedrai e saprai, per farlo. Alla, vai volare, Aby o ciò pisa. Ci sono un paio di più befele, e non ciò che non c'è. E io mi chiede di vojakem e gli striella. Alla! Non c'è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino. Non c'è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino. Alla! Ne' dech preč. Keď tam napochodujeme, nepriteľ nás uvidzi a pusti do gatí. Za pár týdňu sme doma. Ale zekujem ti. Všetko si budem zapisovať. Mi sa za pár duč, aby si to vedel prečítať, pištrohone jeden. Nastalo lúčenie. Miestný pán Farar dojímavou kázňou potešoval tých, ktorí odchádzali, aj tých, ktorí zostali doma. Manželky, dietky a rodičia sa nedali otrhnúť od svojich milých živiteľov a ochráncov. ale márne sa ich držali kolom hrdla. Prijel vlak a tak násilne sa museli jejich drahí vytrhnúť z obijatia a nastúpiť do vlak. a to o a a a a a Viva il review Partitoli in grunco Partitoli 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 di passato alla cuore e il nostro barbaccio lo spostò stranato un altro dai luci fonte staccati sono statati sono statati l'arrivata la seconda le stagione per l'arrivata passi il vino Bolo tutto il nocino. Con l'hubbogli stresi non rimbogli andare. Dva vagómy zasahli granati a zabili 10 chlapov a 5 conni. Topec chlapov aj poradili. Questo è stato spattato. Potremmo i 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 si každý lamentoval to nosi bude! Po cazutich bojoch sme pokračovali dàl až sme za veľké horúčavy dorazili k mestu Premyslu. Tady Rusi na ústupie shodzili všetci mosty tak sme započali staviať nové. La robota è stata molto spattata. Cosa è stata una storia, ma cagliare, c'è un pocino che si tratta di fuc. Ma cosa è che cagliare? Cosa è la storia di colestia? che cosa ne robi? A od kassa bene? Non si può tolko nemmocchie. Vedi? Non c'è tutto il valore. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Voda è piena mrtvo. Noi siamo in questo. Mosti opraviamo. Pocacchiamo tu, chlapi. Pocacchiamo. C'è tutto questo? C'è tutto il bambino. C'è tutto il bambino. C'è tutto il bambino. C'è tutto il bambino. Quando ci siamo troppo, andiamo a continuare. Baranovi, Zavichosti. Il tìdere è prissi. Pieni pocattrani, per le voze a pocci. A continuare, Sandomier, Josefov, Sokal. Sokal è una storia. L'hoqua da lì. Tnt, le T', le Tà здесь. Il t'è tutto il bambino. L'hoqua da lì. L'hoqua da lì. L'hoqua da lì. Nerno delle le divi anche la caglia. Stai, stai, varia, due dne, noci. Chleba non è, solo la massa si è dietro. E così siamo premastili, ma sono state fatte, ma non è stata fatta, 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 ma non è stata fatta. a che veniamo a venire in Sokale. Stefane, Jane! Sono i miei! Mi sono! Mi sono i miei! Sono i miei! Sono i miei! Siamo ci vediamo! Oggi, ci siamo ci vediamo! Oggi, si è in sanzato, vi parvi... Oggi, si è in più, a qui ti ho parlato? Oggi, ci ho parlato. 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 L'argomento, robota, Zerbio, Ritka, non ci si è bello. No, quando ti ho stavano, la l'idea ti nezahlási. Ranno si può riechire. C'è un'altra volta, quando la pechota si è venuto, quando la pechota si è venuto, siamo venuti anche con un pozzato. Paglia, anche con un pozzato. Ano, si sa nama. Granati nasci hnali, kozaci, dielostralletstvo, pechota, tutto pomistano. Anche coni spaventano il suo lavoro, nevladano il voze, mui si vuoi pomagare. Tanto materiale, che ci siamo nevladati, tre d'anni e tre noci siamo utenti. Vanno, come si daria? Voi vedi, che ci stai vivi, che ci stai vivi, che ci stai vivi, a ci stai vivi. Cosa ti spaventa? Mentre si pensi? Lec, che ci sono i ragazzi. Cosa si pensi? Ma' la mia feda, ma' la mia sorda, ma' la mia, ma' la mia rozzina. I' la mia. Qu'è, che ci sono, Siamo che ci sono stati da giugno di rugio, non lo soprio, non lo soprio. Non lo soprio, non lo soprio. Noi non soprio, non lo soprio. Behlu, ma prima di ricordare, le ci siano già in quanto riguarda. Non lo soprio, non lo soprio, non lo soprio. Non soprio, non soprio, sono di ricercato. anche se si nonominate. Ma cosa? Quanto non lo soffriamo? Chiuso, non lo soffriamo. Non ciò si tratta, ma ci sono i srbbsi fronte. Quanto è molto vicino. Hociato, hociato. Hociato, 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 hociato. Hociato. Hociato, hociato, un pecello, qualche conservo, anche un vino. Sì. 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 Non è come voi fatta ma cosa cosa? No vojarvi! Vabbè, non mi fanno. Vabbè non mi fanno, non ti fanno, non mi fanno, non mi fanno che ci fanno. No, ok. Ma cosa che vi fanno? Cosa è che cosa è che cosa? E non farebbero? Vabbè ci sono i loro, non si parla di loro. Non lo farebbero come! No, ma tutti i si fanno farebbero. che non si dovrebbe fare un pochrava un pochrava, un pochrava un pochrava un pochrava noi c'è? No však, kto bude na rolazani bada a prozebravi na vojnu? Nekto musí to porobiť? Ne? Ale on nele s nákoli bi' pomáha Večno? Všeho? Gázdina Zmaína, že sa skrivila s tým RusIntem. TAK, TAK A kiedy ste viedzeli jaká chodzí Vysvita jak Funičko Ehi, vero, non c'è più di posto, ma ce n'è più di atto di prassi. Ma cosa stai dicendo? Non è possibile. Ma non è una sola, ma anche i miei. E che cosa? No, non è finito. Ma non c'è più di domani. Ma non c'è più di domani. Minuto l'amore si è fuori. Ma guarda. Ma guarda. Ma guarda. Look, come guarda. Asi idem po mozolamovati kukuricę? Za chvílku Francesc Hornijom konca. Fug the kukuricę sa ne. No, ma guarda. 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 Gliocchi. Ma guarda. Voi tutti i loro stavano i loro stavano. Voi tutti i loro stavano i loro stavano, ma dovremmo fare i loro roboti. Vero, 180 km da fronte. E i loro stavano i flinti non hanno messo. Mio di Elias, Luttu Olsoske, Franz Bzekela, Ferru Bartka, Jožku Ambra, Palka Rehorovic, e la cosa che ha visto è che aveva il torno di Koba è il pocacco, la gianca ha detto di Koba e la sua vita, ma stagia un pocacca 10 Kč ho poteva diventare i Koba le poteva nel kone qualsiasi hanno riuso al 29 Kč un pocacca in Koba cazzo del 1.500 Kč sono molto felice dal metto quando c'è un litro di mleca per 50 euro, non ogni volta. No, per la voce stavano 16 euro, maslo 2 Kč e 15 Kč. E tanti pridavanti? 85 euro a 1,5 euro? Vabbè, ho vanno a tutti i 10 euro? Poi, ho vanno a tutti i 10 euro? Poi, ho vanno a tutti i 30 euro? Poi, come lo siano in questa Commission? ma tutti i loro compagni. E' anche il suo compagno. Ma che si può essere riuscita, ma che si riuscita, non si può essere riuscita. Quando si riuscita di nostri raggi? Se ne viedrava di giorno, non si può rimanere. Quando si riuscita le persone di spiega, e tutti i nostri chiedi. Sono nasce stricchie di tutto da gruza, e così non mi ricordi, non ci si chiede. ma non si scenderemo in quanto a costello, mi fuori, ci sono stati, i loro vedi, ho portato, e la delle nostre chiede. Non ci si creda, fanno di come da loro, che fanno fare un canone, che fanno dovuto stricare. Sì, siamo venuti con il vostro posto. Sì, siamo chiamati a chiamati un pocino. Non ci sia piacere. Sì, siamo venuti. Sì, siamo venuti in posizione. e chiamati i tanti zvoni. To è stato strappo. Quando ci siamo lucevi, to è stato un pocci. No vero, a io sono piacata, quando ho visto la quattro svegge, è stato un pocci. Poi, parà, sono stati di chiamati a le persone, sono stati di chiamati e poi ci sono stati Sì. Non ti dàva ti ti mažare svoje. No maš pravdu, snaccia, neda mùi osadlì kotev, abys ne ho gulchi robili. Na, top! Drodzino, vesmila! Anička mi na pochezza zaspala. Neschela se mi obudzi, nech sa sama prebere. Moja malunca, mylna, a cosa ti pietne ho smívalo che tu ho spinkala? No, povedz, jaka è krasnà, a jak anđoliček nasmate po prasku. Moja milena, vietnà! Dà mi tàdi Čaško. A co ti naši chlapi, jak oni sa majú na tej vođe? Miško písao, že sú na srbskem trónse, a jaké to bilo, keď jeli lođu pod Unai, potmie, svet pa museli poshasinat, aby ich srbi nevidze videli. Mi ini ve voze plavali, a kedy ich chlap spadiel do vođi, temu už veru nebilo pomoci. gulki im brnkali okolo uši, keď mo si staviali. A Vanoce, jak preživali, tam, kde si daleko, okna a dvere museli pozat spávat s Vamu, abit im netršalo, a neprt nekutalo doňutra. Moja milá Rózina, keby ste by doma viedzeli, po aká strašná je táto vojna, či všetkými sme museli prejít. Koľkých chlapov a kamarádů to stálo život, a furt dochádzajú další a další. A ja sem byl ranený a v teme Švárdskem špítáli mňa operovali. Po zotavení sem robil asistenta profesorovi Burianovi. Tam sem tež zažil hrozné vieci, jak aj na fronce. Keď po útoku dovezeli ranených, vidíli ich toľko, že sme ich museli trídit, kedy ich sa dá ušetriť a kedy už nemajú šáncu. A mnohí, kedy sa dostali na ušetrovni, aj tak umreli pri amputácii alebo operácii. Nevím, či na ten byli lepší, zmrzačení vojáci, alebo len tí, co sa potácali v živé mrtvole, kozili sem a tam a na nic a na nikoho nereagovali. lebo sa nedokázali zpamatať z kanonády alebo z toho, co videli a zažili. No špitál nebyl na fut. Po nejakém čase nás remeselníku vybrali a išli sme staviať nos k nemeckým hranicám. Po štyroch miesícoch nás poslali na lumúnsky front a 10. septembra 17. roku sme byli vystrojení na front do Talianska. Čiže... Čiže... Čiže, dajme dávať pozor, po mali... Užiš... Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Ci sono due giorni, che ci sono in questo ottimo strumento. C'è tutto il cibo, non ci sono spettato. Ci sono un pocci, ci sono un pocci. Come ci sono un pocci. Grado, questo è stato un pocci. A ci sono un pocci, ci siamo nel nostro, la cibo è 4 km di Alena. Non abbiamo il ciò, come si siamo in questo? C'è tutto? Non ci sono un pocci? No, non ci sono un pocci. Non, non ci sono un pocci. Ci sono un pocci, ci sono un pocci. Ci sono un pocci. C'è l'appare un'assip. Vanno ci siamo in questo? Cosa prende? Cosa? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Se vuoi stranno quando i sui vlni... Non lo so, chapi, tu deve andare a cercare! A come si vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Spariamoci. Spariamoci, ho scopo! Poi, chapi! L'abbiamo a il 4. I'voli, le testo. L'abbì! Veste se ciò che ne viac può coppare! Mori, non sono ancora più che c'è la volda? Cosa stai? Cosa stai? Allora! Niente, non mi sui! Andiamo! Che voi la uscire! Andiamo! Maluca sem, pusti passem, tancovava via, azzatrasem, tancovava via, azzatrasem, Ah che c'è mia, èusche maò, ngojà m'ma manca, ma mňa, ah tác liàà, moja manca, ma mňa, ah tác liàà, Ah che c'è mia malulinka, tancova c'è mia этому, hollubienka, tancova c'è mia, hollubienka Questi conoscente! Spera, sterare! Cosa? Spera,ざenderà! Spera, posiclare vestiti le persone suonoci! Spera, doposti risponde. Spera, sterare adesso! Si. Si, cerare! Spera, che pasi! No, non ti nebieti nebieti, non ti nebieti. Io, ci sono di striduico da Bucca, cosa non ti nebieti? Ma cosa tu ti fate? Tu sei che ci fate obedeva, cosa fate di bene domani? Mamina, la nostra, la nostra, la nostra, la nostra. A non ti fatevi, non ti fatevi? Non ti fatevi, te le ho ci hanno dato? Mamina, non ti fatevi, non ti fatevi, da non ti fatevi, non ti fatevi, Non lo fate di aggiungere le farbavigliore le farbano. Mamina, non lo fate di assurdo. E tu cosa ti fai? Un dolore. E tu neannianci? Ne. Ma anche una buona. Qua che è bella. Devo farbare. E se ti fanno fino al mondo. Sì, sì, bello, è un'altra. Dobbè, teda. Può che si sta nanno rosserci? Janko a tue raggiunti sono un'altra. Sì. Dove vi, come si avrò di me sovi. Ha detto, che fa parte è domani, ma sono 4 anni. Grazie. 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 Grazie, dajte si. Nevyleval. Ma to tam sluché. Poč. Poč. Poč sa ukrémia. Ty si tu zofort píšeš. Ale. Zapisujem, co sme zažili. Slúbil jsem to jednemu mavemu lapašku. A come si chiede con il nostro corpo, come si chiede con il nostro rebeca? Ehm, vero, tutti i si è stato okolo. Il nostro lavoro è stato un pocino che l'ha trovato. Flaše, lecce, 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 i pelle, Puttni nosili vojaci, come dajaki požiare salievali. Murstvo ležalo po cestà bez vedomi. Jaj, hudine. Tam bello bene. Nelche giorni trvali leggi, vietrizieli e mohli andare da lontano. Tutto è tutto qui. Anche a Vanno, come mosti musieli stavare, vedno in noc, quando vedno strigli, quando ti lo svegliamo, che si chiamati, che non c'è l'abbò chiamati. A quanto nello stesso tempo? A 70 cm. A stavare mosti, è un pocino, è un pocino. A o dedinco Rebeca si napisao, che ci siamo vivi tra i medzi Oshio e Vrbovim Krovim, quando i italiani aeroplani stavano e imparavano di nascere, abbiamo vissato da nasi nostri spessi. come purenze popoli. E ai vero, da nostra compagno erano 10 muri e 15 rannati. Altoni svetlini Sv'ienri strani Altoni Sv'i Paata inini Tag z'a' Calla Valka na Italii. Sv'ienri strani Altoni Sv'i Paata inini l'Italia Camarati padali, smutni polivani, nakti ranili. Však ne vieta vietali, kamarati padali, smutni polivani, nakti ranili. Tam leží moj rachurí rajíci, vedle jeho druhý peskne pláčici. Vjede oči spaleni, druhý nový zvámaní, prosi kamarati odoražení. Vjede oči spalení, druhý nový zvámaní, prosi kamarati odoražení. Vjede oči spalení, druhý nový zvámaní, prosi kamarati odoražení. Vjede oči spalení, druhý nový zvámaní, prosi kamarati odoražení. Vjede oči spalení, druhý nový zvámaní, prosi kamarati odoražení. Vjede oči spalení, druhý nový zvámaní, prosi kamarati odoražení. Zvámaní, prosi kamarát odoražení, prosi kamarati odoražení. S' jedi strani alpini, in ruoli tada i nini, tak začala valga na Italii. Naopiniame, čo napíšeš? Brať nás čaká osudná bytka, bude i veršifnú cez rieku. Veru, veľmi nám toho sladujú. Brať keď prejdeme cez rieku, budú rekvirácie. Brať budeme všetko, čo príde pod ruku. Už aj rekvirátske komisie utvorili. Na čo nám budú rekvirácie, keď budeme mŕtvi? Hej, chlapi, o trete ráno začíname prehažať pechotu. Smer pijava. Ideme na to, ho. Poďme, chlapi. Pijom. Lidka pri pijavie, bylo motové peku. Udol! Také strašný pojaví, aby mi dokáže všetko 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 všetko. A videl, keď jeho 30 kamarádu sa udusilo hrozný krv. A co strašné videl v nomocnici, keď byl ranený, tri poschodia mrzáku. Niekedy byli aj malé zecu. Zabalení, bez rúb, bez noh. Múky im hrubieť žírali a im dohrali do domocí. Oh noh! Všetko 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 všetko. Strašný rebaston. Mŕtvých dávali do hrobu aj po 500, po 1000. Posypali im váhne zváhne. Niekedy ešte žili, ale do výhne dohodali. Strašné, to dokáže urobiť čo do čo všetko. LUDE! 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 Valka sa skončila! LUDE! 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 Mojich u akci sa vráci! Môže, keby sa aj tí moji vrácili. Ja už tri miesece nemám o nich žádne strany. A keď sa ten moj vráci, tak ho ja privítam s tým podárečkem. Maminko, a jak vypadajú múta syne. Ja si na nich vôbec nevzpomínam. Však sem bylo malučká, keď odešli. No, taký vysoký. Brčkavé vlasy zalonzíte. Taký piek. Spoznám ho, keď sa vráca. Uvidíme. To vy, či ho ja spoznám. Maminko, a na tej vojne po sebie aj strílali, aj sa zabíjali, a proč vôbec sú vojny. Nevím. Opýtaj sa ľudzi. To už ví, či sa je Míšo vráci, a či zápisník donese. Míšo. Míšo. Či sa len dyrostel. Počet ti donese zápisník, ak sem ti slúbil. A ja sem sa vrácil, aj zápisník sem donese. e magari a qualcuno può essere chiede e pensi che si può essere così non è così non è mai vero. Si ricordi di tutti i nostri chlapati quando si mette i nostri bardi per svere il bianco di bianco Poi chiede a chiede a chiede a chiede a chiede. Grazie a tutti. Lissi Pavel, Malec Ondrej, Mračka Štefan, Mrvec Štefan, Nitschneider Ján, Petrík Michal, Polák Jan Starší, Polák Jan Mlači, Polák Vendeli, Polák Teodor, Ráchal Blažej, Rudavský František, Rudavský Ondrej Bratia, Sedlák Martin, Smák František, Smák Ondrej Starší, Smák Ondrej Mlači, Špergl Ján, Špergl Pavel, Špergl Vít, Špoták Štefan, Tušer Urba, Vanek Ondrej Starší, Vanek Ondrej Mlačí, Vrátny František, Odpočívajte v pokoji. Grazie. 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 Ďakujem veľmi pekne. Ja iba tak náhodou, ako nikomu som nedostal do rúk ten program, ja som zabudla na začiatku povedať, že všetko to, čo ste videli, je na základe skutočnosti a text alebo predloho vznikla na základe denníku, ktorý si počas Prvej svetovej vojny písal náš kronikár sovošnícký, pán Michal Bakan. A my sme tento denník našli a vďaka tomu vzniklo všetko to, čo ste tu videli, takže všetko to má pre nás takú ešte väčšiu hodnotu, lebo je to proste naše dejiny, naša história. Tak vám ďakujem a ako som na začiatku spomínala, tak vďaka tomu, že ste prišli a venovali ste nám nejaký príspevok na vstupnom, tak môžeme pomôcť Natálke Pagáčovej. A tuto je to, ja netuším koľko tam je peniazy, takže srdečne vám ďakujeme a vyzbierali sme pre Natálku 670 eur. Pňažky budú koužne na liečbu pre Natálku. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za krásne predstavenie. Chcela by som sa poďakovať vám všetkým, čo ste prispeli na liečbu mojej dcerky Natálky. A ďakujem za dobrú myšlenku pani Julke Bačkovej a pani Veronike Macejovej, že vlastne to vôbec napadlo, že vyvenovali Natálke. Ďakujem. 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 Ešte chceme aj vám všetkým poďakovať za váš čas, nám ho a osvílie, keďže aj my tu natričujeme divadlo, tak vieme, že to nie je jednoduché a že ten čas je naozaj veľmi vďačný. Ale zároveň sme veľmi radi, že to svedectvo, ktorým sme my tu začali tie divadlo a ktorými chceme pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú a ktorí ani za to nemôžu, že vlastne túto zdravie možno nemajú tak, ako máme my, tak sme veľmi radi ešte raz a ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.